Amici delle Marche e amici dell'Italia tutta, un saluto. Voglio rubarvi solo pochissimi minuti. Dici come rubare? Qui c'è rubaruto. No, no, non in quel senso. Voglio darvi un consiglio. Pochi minuti per un consiglio che magari vi aiuterà a passare un'estate più bella, più divertente. Il giorno 4 e 5 agosto, in una meravigliosa cittadina delle Marche, Grotta Mare, si terrà questo festival, il più antico festival della comicità. Cabare amore mio. Dice, ma cosa si fa un festival della comicità? Si ride, si ride molto, si ride parecchio. Perché? Perché abbiamo degli ospiti fantastici, a cominciare dai conduttori. Gabriella Germani, che avrete visto sicuramente ai Nicola Fiore, Mauro Casciari, Le Iene, mi manda Rai 3, Radio 2, e poi Maurizio Battista, Gene Gnocchi, Cevoli, Paolo Ruffini, da Zeniga Andrea Di Marco, da Colorado Franco Rossi, Silvano Belfiore, ci suonerà qualcosa, il maestro che dirige l'orchestra di Maurizio Crozza. Insomma, tantissimi ospiti. Due serate strepitose. E dice, ma come faccio? Io dico, come faccio a venire a vedervi? Ma è semplicissimo. Una cosa, puoi andare sul sito del Comune di Grottamare, sulla pagina Facebook di Cabare amore mio, c'è un numero di telefono, uno prende, telefona, ho pronto ufficio cultura, mi dica, chi parla? E dice, sono Gian Bruno Fischioni, volevo prenotare, ma signor Fischioni, quello che volerei, oppure, ipotesi, sono in zona? Ma io se sono in zona, vado direttamente all'ufficio cultura di Grottamare, tra l'altro l'ufficio cultura, ragazzi, dei giovani, delle ragazze, dei ragazzi di una bellezza, di una simpatia, una cordialità esagerata. Dico, buongiorno, sono signor Gian Bruno Fischioni, io volevo vedere il festival, mi aggraderebbe avere, ma se le aggrada, ma non si, capisci, tutta la simpatia. E uno dice, ma sono d'accordo con te, ma tutto questo buon umore, questa allegria, quanto mi costa? Dico, quanto mi costa? Ma quanto ti costa? Un'inizia, una bazzicola, una quisquiglia. Dico, una serata, 23 euro. Ma 23 euro, ma cosa sono 23 euro? Cioè, una pizza, una roba. E per ridere poi? Ragazzi, ridere non è una cosa che succede tutti i giorni. E noi ti diamo questa possibilità. Dice, sì, ma guardi che io sono un tipo furbo, lei è furbo, e allora le do un consiglio. mi prende l'abbonamento per tutte e due le serate, le faccio risparmiare un tot. Quanto? Un tot. 40 euro, due serate. Mi viene con la signora, guardi, e mi passa una serata di una bellezza. Insomma, ragazzi, è un'occasione da non perdere. Approfitto di questo breve video per salutare due personaggi che stimo e amo moltissimo. Il primo, Enzo Iacchetti, il direttore artistico che mi ha preceduto. Enzo, cosa ti posso dire? Grazie. Grazie, spero solo di essere alla tua altezza, perché in questi anni hai fatto un lavoro bellissimo. E l'altro è Neri Marco Re. Neri Marco Re, direttore artistico di questo festival strepitoso, Risorgi Marche. È un'iniziativa bellissima. Ovviamente, Neri e Enzo, io spero di vedervi presto, dove? Va da sé. Il 4 e il 5 agosto a Grotta Mare, a Cabarea Moremia. Ciao.